Eccoci di nuovo con le nostre proposte del P.E. Alert, vero Tiara? Sì, ad esempio per gli studenti delle scuole superiori c'è un concorso in produzione che scade il 20 ottobre. Mentre a Bruxelles un tirocinio presso il Comitato Economico e Sociale Europeo che ha scadenza il 30 settembre. Ed infine un progetto di volontariato di Romania per 4 mesi con scadenza il 10 settembre. Qui il tutto su hashtag P.E. underscore alert.